Con Fabrizio Cultrera domenica in programma il torneo di quarta categoria campionati provinciali di Trapani. Qualche informazione in più su questo evento? Sarà un torneo di quarta categoria, unica prova provinciale a Trapani. Abbiamo più di 80 iscritti tra singolari maschili, singolare femminile, doppi maschili e doppi femminili. Sarà veramente una tappa molto importante, anche perché i vincitori parteciperanno a Roma per la fase nazionale. Bisogna fare reclutamento, per quanto riguarda il ciclo Tennis Trapani siamo al completo, abbiamo reclutato tutti quarta categoria. Poi naturalmente verranno da Marsala, da Mazzara, da Petrosino, quindi sarà un bel torneo sperando che il tempo ci accompagni. Ci sono intanto molti dei nostri ragazzi che parteciperanno a questo torneo, molto piccoli, dai 12 ai 16 anni. Speriamo che uno di loro possa vincere e conquistare questo trofeo, anche perché ci sarà una seconda fase di queste prequalificazioni, che si giocherà a Catania, andrà a Catania il vincitore di questo torneo e poi se vincerà anche a Catania magari avrà la possibilità di andare a Roma per le prequalificazioni. Abbiamo speranza che uno dei nostri ragazzi possa vincere e continuare questo percorso fino a Roma. Ora da quest'anno siamo sei maestri, mettiamo tutto il nostro impegno affinché possano migliorare e andare avanti in questo percorso. Ora sfrutteremo la vittoria della Coppa Davis da parte dell'Italia e Sinner che ha raggiunto la terza posizione mondiale, perché porterà sicuramente molti ragazzi a giocare questo sport che è bellissimo. Noi siamo pronti per accogliere più ragazzi possibili e per far crescere il circolo in questo senso. Noi ci stiamo preparando per accogliere la nostra scuola tennis che già è molto numerosa. Noi siamo di gran lunga la prima scuola in provincia per numero di ragazzi. Ci stiamo organizzando per accoglierne ancora di più. Dedichiamo alla scuola tennis più energie, sicuramente più maestri. Abbiamo introdotto, come diceva prima Giorgio, altre due figure. Da quest'anno abbiamo introdotto anche il preparatore mentale per i ragazzi della scuola tennis e partecipiamo con i nostri ragazzi a tutte le attività giovanili possibili. Abbiamo presentato le squadre giovanili in tutte le categorie esistenti, cosa che in provincia è merce rara.